Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi cercherò di trasformare questo vecchio router ADSL in un velocissimo access point wifi. L'ho trovato l'altro giorno mentre stavo cercando nei cassetti una cosa che mi serviva e l'ho ritrovato. Questo router risale all'incirca al 2014. Lo avevo cambiato quando sono passato da un contratto ADSL a un contratto per un modem con una linea molto più veloce. E allora è rimasto l'idea di trasformarlo in un access point wifi è nata dal fatto che ho bisogno di un access point wifi dove collegarmi. Dato che la rete wifi, nel posto dove solitamente uso i computer e i telefoni, non funziona molto bene. Quindi adesso non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. La prima cosa da fare di sicuro è collegare l'alimentazione elettrica e accendere dal pulsantino dietro. La seconda cosa da fare è prendere una normalissima graffetta e inserirla nel foro dove c'è scritto reset, in questo modo. E bisogna aspettare fino a quando il modem non si riavvia. Una volta riavviato il modem significa che il modem è arrivato al punto in cui è come appena uscito di fabbrica. Quindi prendiamo un normalissimo cavo ethernet che non deve essere attaccato alla rete di casa. Deve essere un cavo ethernet scollegato, cioè un cavo scollegato dalla rete di casa, che dobbiamo collegare nella porta 1 del nostro router, per esempio la porta 1 nel mio caso è questa, e dobbiamo collegarlo nella porta ethernet del computer. La fase successiva per rendere il nostro modem un buonissimo access point wifi è andare in una scheda di chrome, nel mio caso è chrome, ma nel vostro caso deve essere il browser che usate più frequentemente, e dopo aver collegato il cavo che abbiamo collegato prima al router, al computer, dobbiamo andare a scrivere l'indirizzo IP che troviamo sotto al modem. Allora, nel mio caso è 192.168.1.1 e mandiamo invio. Ora ci apparirà una finestra come questa, perché nel mio caso è un router abbastanza vecchio, ma nel vostro caso, cioè in alcuni dei vostri casi, per dirlo meglio, se voi doveste avere un router più moderno, vi apparirà la schermata del router dove inserire la password. Ovviamente, dopo aver fatto il ripristino, come vi ho fatto vedere prima, con il tasto di reset, ci saranno un nome utente e una password di base. Per esempio, la mia è admin per l'utente e admin per la password. Facciamo invio. Ok, in questo caso non me l'ha preso. Vediamo ora. Perfetto, siamo dentro al nostro router. Allora, nel mio caso, le cose che vediamo qui a schermo, che ora si sta aggiornando, sono l'indirizzo IP del router, che è 192.168.1.1 La subnet mask, che questa è una cosa secondaria, che non ci serve proprio tanto in questo tutorial, è 255.255.255.0. E poi c'è il server DHCP, che in questo caso non ci servirà. Però, ora, cosa dobbiamo fare? Una volta entrati nella schermata di configurazione dei router, andiamo in quick start, quindi nella finestra dove c'è il setup iniziale, e facciamo avvio wizard. Una volta arrivati nella finestra del quick start, ci aprirà una nuova finestra, questa qui. Noi facciamo avanti, mettiamo il nostro fuso orario, che nel mio caso è il GMT più 01, e mettiamo avanti. Qui adesso ci appariranno i tipi di connessione. Qui c'è l'indirizzo IP dinamico, dove prenderà dal provider un indirizzo IP. Questo non lo dobbiamo selezionare. Indirizzo IP statico. Questa qui userà un indirizzo IP statico, che dovremo impostare noi, che in alcuni casi ci viene dato dal nostro provider. Poi c'è pppoe e pppoa. E questa cosa è per la maggior parte degli utenti DSL, come è scritto qui. La cosa che ci serve a noi è la modalità bridge. Quindi è, in poche parole, la modalità dove andiamo soltanto ad usare il router come access point. Quindi un punto dove ci possiamo collegare e non come router. Andiamo avanti. Qui ora ci uscirà VPI, che nel mio caso è 8, VCI, che nel mio caso è 35, e il tipo di connessione. Qui, se vi esce, mettete IP LLC. Andiamo avanti. Ora ci uscirà questa cosa, access point, importante tenetelo attivato. L'SSD, che sarebbe quello SSID, scusatemi, che sarebbe il nome che noi vediamo quando ci colleghiamo al Wi-Fi, lo possiamo cambiare. Nel mio caso lo chiamerò Internet. Mettiamo che la visibilità è su sì. E il tipo di autenticazione, mettiamo VPA PSK, VPA 2 PSK, questa qui. Qui lasciamo TKIP AES e la chiave di rete, nel mio caso, metterò Internet. Voi, sull'SSD e sulla chiave di rete potete mettere quello che volete. Ricordate che la chiave di rete è la password, tra molte virgolette. L'SSD è quello che vedrete quando vi volete collegare al Wi-Fi, il nome. Andiamo avanti. Qui ci dirà Quick Start completato. Adesso, facendo avanti, salveremo le impostazioni. Io faccio avanti e mi si salveranno le impostazioni. Eccoci qui. Una volta tornati nell'interfaccia del nostro router, dobbiamo andare in Configurazione Interfaccia. Qui vedremo che sarà rimasta modalità Bridge. Qui è l'IP LLC. Per ora dobbiamo andare non su Internet, ma su LAN. Clicchiamo su LAN e qui ci uscirà IP Locale Router. Noi, dato che la maggior parte dei router ha questo indirizzo IP 192.168.1.1, io andrò a mettere 192.168.1.1.2. La subnet mask, lasciamo la 255.255.255.2.5.0. La root dinamica lasciamo questa com'è, la direzione la lasciamo su entrambi. E questo qui lo lasciamo abilitato. Altra cosa importante, dobbiamo disattivare il DHCP. Ora vuole un accesso, che è sempre la stessa cosa, admin e admin, che nel nostro caso, ora non mi ha salvato le impostazioni dell'IP, perfetto, però abbiamo disabilitato il DHCP, che in poche parole è una cosa che andrebbe a fare conflitto con il nostro router principale. Salviamo tutto. Una volta salvato, ci reindirizzerà al nuovo IP che abbiamo messo. Quindi mettiamo di nuovo admin, admin e accediamo. Ora possiamo notare che il router non è più sulla .1, ma è sulla .71 come IP. Ora qui abbiamo tutte le impostazioni che vogliamo, ma nel nostro caso non ci serviranno, perché adesso la cosa che dovremmo fare è spegnere l'interfaccia del router e passiamo al prossimo step. L'ultima cosa che rimane da fare è collegare il cavo proveniente dal nostro router modificato ad access point a una normalissima presa Ethernet, che magari è proveniente dal nostro router principale. Colleghiamo la presa Ethernet e ora andiamo a controllare un attimo cosa succede davanti al modem. Ora, se guardiamo bene, tra le lucettine che si notano davanti al router modificato ad access point, si può notare che c'è il power, il VLAN e una nuova lampadinetta che lampeggia. Nel mio caso la porta 1, perché abbiamo collegato ad internet il nostro access point, tra molte virgolette. Quindi adesso sta ricevendo dati dal cavo di rete e li sta trasmettendo sulla rete Wi-Fi. Volendo si possono usare le altre tre porte, nel mio caso, dato che ne rimangono altre tre, per poter collegare altri dispositivi e di certo ci possiamo collegare anche sul Wi-Fi. Ora vi mostro come configurarlo. Per uscire a collegarci alla nostra rete del access point che abbiamo costruito, dobbiamo collegarci al nome che abbiamo messo, nel mio caso è Internet, tutto minuscolo. Ora ci dirà rete connessa. Ovviamente qui ci darà tutte quante le impostazioni, che ora non ci dobbiamo preoccupare di queste impostazioni. Quindi ora siamo connessi alla nostra rete appena creata. Adesso facciamo uno speed test per vedere quanto è veloce. Facciamo questo speed test. Beh, devo dire che è molto più veloce delle altre connessioni Wi-Fi che arrivano dove uso solitamente i miei dispositivi. Contando che la mia connessione di media fa un 40 megabit, avere 19 in download di sicuro non è male. Contate che c'è un cavo che passa per tutta casa. Quindi, veramente buono. Perfetto, io spero che questo video vi sia stato utile. Vi ringrazio per averlo visto. E vi chiedo, tanto a voi non costa niente e a me mi aiutate tantissimo, di iscrivervi e lasciare un bel mi piace per farmi sapere se vi è piaciuto il video. E soprattutto, per chi mi segue da un po', che ne dite della nuova postazione di registrazione video? Vi piace? Volete che continuo ad usare questa? Oppure preferite il solito tavolo arancione che ho sempre usato? Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo nel prossimo video. Grazie mille a tutti!